La delocalizzazione della giostra caleresca di Sulmona dalla centrale piazza Garibaldi allo stadio è una proposta che per molti, per la maggior parte della città, è stata subito valutata come improponibile oltre che impopolare. Il Movimento 5 Stelle, che già aveva espresso contrarietà sul punto, però interviene a proposito con la sua proposta, ovvero l'istituzione di un ente e di una legge regionale per rilanciare l'evento. Con il coordinatore del Movimento 5 Stelle di Sulmonangelo, D'Aloisio, vediamo che cosa avete in mente nello specifico. Allora sì, perché questa proposta mira fondamentalmente a dare stabilità economica alla giostra, anche per gli organizzatori, perché ogni anno non possono stare ad aspettare, quasi ad elemosinare quello che è un contributo che comunque proviene dalla regione comune o quale ente sia. È una proposta semplice, in realtà è una proposta che in passato già fu presentata, anche se in maniera diversa, per onore del vero, nel 2002 e nel 2007 e anche questo Consiglio direttivo ha fatto una proposta in intersesso alla giostra. Però sulla politica non ha dato una risposta. Noi facciamo politica, quindi che non ci interessa il contenuto della manifestazione, ma vogliamo dare una struttura, che poi è quella che è la ossatura della giostra del futuro. Che cosa prevede? Prevede sulla realizzazione, sulla costituzione di un ente o fondazione, dove all'interno di questo ente ci confluiscono direttamente quelli che sono i danari già stanziati, ma non sulla forma di un contributo, ma con una legge specifica per la giostra cavalleresca. Per l'esattezza oggi c'è la Regione Abruzzo che ha la legge per i grandi eventi, che è troppo generica e troppo dispersiva a livello economico, un contributo fisso esclusivo per la giostra. Poi come funziona il funzionamento di questa riforma della struttura? Che secondo noi, se si chiama giostra cavalleresca della città di Isulmona, a capo di essa ci debba essere il Comune, quindi il Sindaco. E quindi andiamo per ordine. Ente, poi il Comune che comunque creerà un assessorato specifico per la giostra cavalleresca, perché di giostra si deve parlare tutto quanto l'anno, anche con il marketing e con la promozione, che deve fare il salto di qualità. Perché se dopo 25 anni non è stato fatto, oggettivamente c'è qualcosa che non va. Dopodiché c'è uno strumento del Consiglio Comunale che sono le consulte, che devono aiutare sull'attività dell'amministrazione, creare una consulta che venga chiamata proprio consulta sulla giostra, dove i membri che ne fanno parte di diritto sono i capitani dei borghi e sestieri assieme agli operatori commerciali. Perché in questa città si deve parlare di giostra tutto quanto l'anno, perché sulla giostra non è solo la manifestazione nella bellissima piazza Garibaldi, è solo in piazza Garibaldi, senza ipotesi provocatorie o scelerate anche, di andare a fare questa manifestazione in una struttura dove sono stati investiti soldi pubblici per fare calcio o altre attività. Ma di giostra si deve parlare tutto quanto l'anno perché i borghi e sestieri, che lo ricordiamo e noi lo sappiamo benissimo, hanno un modello di aggregazione sociale che oggi è unico, perché sfido chiunque a trovare un modello di aggregazione nel 2021, dove comunque c'è dal bambino fino al nonno, un'aggregazione intergenerazionale.